Dalla pasta alla verdura, dal gelato alla focaccia, dalla coppa al grana. Col Diretti Piacenza apre il mercato coperto di Campagna Amica, un luogo di incontro tra produttore e consumatore che crea una comunità di persone intorno al cibo e alle tante eccellenze agroalimentari del territorio piacentino. L'inaugurazione è sabato prossimo in Via Farnesiana. Rappresenta un appuntamento importante per i cittadini, per gli abitanti di Piacenza, conoscere le aziende agricole di questo territorio, le eccellenze dei prodotti che porteranno in questo mercato in un momento particolarmente difficile e particolare per il territorio e per il paese dovuto alla pandemia ma anche alla guerra che stiamo vivendo in un momento molto difficile. È un luogo inclusivo in cui potranno vivere le eccellenze, assaggiare i prodotti ma anche apprezzare la cucina di questo territorio splendido e importante. Non solo cibo ma anche vini. È presente infatti l'area enoteca con oltre 20 cantine locali. Credo che sia un'occasione unica per assaggiare le eccellenze dei vini piacentini e far vivere un po' di economia rurale e agricola che credo che non guasti mai in un momento così particolare come quello che stiamo vivendo. Il punto vendita è in prossimità di un parcheggio con un centinaio di posti auto. Il punto vendita è in prossimità di un'occasione di un'occasione di un'occasione di un'occasione di un'occasione di un'occasione. Grazie. 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 Grazie.